buonasera sono della pena roberto della capa triatica ci troviamo un campo di kiwi in questa fase fenologica anche prima sono state trattate con dei fitormoni noi consigliamo come k di aggiungere a questi fitormoni di un prodotto a base di calcio il camab 26 un prodotto molto conosciuto che è ricco di calcio magnesio del potassio e serve per la consistenza della frutta in più oggi consigliamo anche del rana che sono delle alghe con un ph 4.2 che permettono l'assimilazione ancora maggiore di questi prodotti due questi due prodotti ho detto vi ringrazio al prossimo